Presidente, amici delegati, graditi ospiti, sono onorato di rappresentare su questo palco la mia sezione di seravalle, di poter darmi un contributo ai lavori del nostro XIX Congresso. Amici, responsabilità e coraggio, queste sono le due parole che devono imprescindibilmente precedere il fare. È con responsabilità e coraggio che i nostri fondatori, 65 anni fa, decisero di prendere in mano le sorti del nostro Stato. Responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni. Responsabilità nel momento in cui ciascuno di noi appoggia i piedi su questa terra, scendendo da letto ogni mattina a quando li solleva per ricorricarci. La responsabilità deve permeare ogni singola azione che ciascun cittadino compie quotidianamente, a partire dai gesti più semplici, come il rispetto del suolo pubblico, non gettando rifiuti per strada, fino ad arrivare agli atti compiuti dai nostri consiglieri e membri di governo, che con le loro decisioni influiscono sul futuro delle nostre generazioni e delle generazioni che seguiranno. Faccio appello alla responsabilità di ciascuno di noi, non perché fino ad oggi tutti ci siamo comportati responsabilmente. In questi ultimi tre anni abbiamo raggiunto importanti riconoscimenti internazionali, a livello OX, a livello di Banca Mondiale, a livello di sottostruzione di accordi contro le doppie imposizioni. Abbiamo vinto le elezioni. Ma perché oggi, come in pochi altri momenti della nostra millenaria storia, il Paese vive in un pericoloso equilibrio precario? Mi piace rappresentare il nostro essere oggi come un punto azzurro su un foglio completamente bianco. Il punto rappresenta tutto ciò che siamo riusciti a costruire in 1713 anni di storia. Il foglio bianco, il nostro futuro. Mai, come in questo momento storico, ogni singola lettera che scriveremo per formare le parole del nostro futuro sarà così importante. Non possiamo permetterci di fare errori. Non abbiamo più margine per sbagliare. Capite quindi perché responsabilità. Quello a cui dobbiamo tendere è un comportamento responsabile di sistema. responsabilità nell'accettare condizioni di vita momentanee leggermente inferiori alle attuali. Perché questo servirà, unitamente all'attuarsi in un nuovo progetto Paese, al riequilibrio dei conti pubblici e alla messa in sicurezza della nostra indipendenza economico-sociale futura. Ma soprattutto al mantenimento dell'indipendenza come Stato. Sì, perché questa è a rischio. responsabilità e rispetto nei confronti di quelle mille più persone che sono attualmente senza lavoro. Onorando ed apprezzando l'attività che ciascuno di noi svolge quotidianamente, che è fatta con impegno crescente in maniera massiva, porta inevitabilmente ad un miglioramento dell'efficienza del sistema Paese, garantendo contestualmente maggiori possibilità di rimpiego ai disoccupati. Responsabilità e rispetto tra categorie di lavoratori. Innescare un conflitto sociale tra pubblico e privato non giova a nessuno. Sarà inevitabile, guardando i conti pubblici, che dovranno essere presi i provvedimenti per il contenimento del costo del personale statale. Ma credo e auspico che ciascun dipendente pubblico avrà assicurato il proprio posto di lavoro. E da questa sicurezza, dalla responsabilità che deriva da rappresentare lo Stato quotidianamente di fronte ai cittadini, che ciascun dipendente pubblico dovrà ancor più responsabilmente aumentare la propria efficienza lavorativa, aumentando così la competitività del nostro sistema Paese. Sì, amici, parlo di sistema Paese, perché oggi, come non mai, il comportamento e il pensiero di ogni singolo influisce enormemente sulla collettività. Basta piangersi addosso. Potrei farvi l'analisi economica-finanziaria della nostra economia, snocciolando dati, numeri, statistiche. Ma credo che tutti sappiamo e abbiamo coscienza di dove siamo, come siamo e chi siamo. Abbiamo la competenza e la tenacia per realizzare quei progetti che potranno risollevare la nostra economia. Sfruttiamole intelligentemente, con la consapevolezza che siamo una nazione che dovrà confrontarsi inevitabilmente non più con solo la vicina dell'Italia, ma con l'intero pianeta. Le parole che andremo a scrivere su quel foglio bianco, di cui accennavo poc'anzi, potranno descrivere un cambiamento positivo solo se ciascuno di noi riuscirà a cambiare positivamente il proprio fare, con l'intento di far crescere la collettività. Sicuramente non va in questa direzione la campagna stampa ad orologeria degli ultimi cinque giorni. Quindi, caro Marco, faccio appello alla tua responsabilità e tenacia per far crescere il nostro partito e il Paese. Grazie.